Piccola gigantesca Teresina di Paolo Risso Diverse volte mi è stato chiesto di scrivere di Santa Teresa di Gesù Bambino senza che io ci sia mai riuscito. Nella mia vita sono stato diverse volte a pregare presso la sua urna di passaggio a Torino e persino ad Asti, provando una grande gioia. Ma neppure ora, ormai anziano, saprei scriverne un profilo. Così piccola nella sua via dell'infanzia, in realtà è un gigante, tanto che un anerottolo come me non saprebbe dirne nulla se non come l'ho incontrata. Il suo fascino È la prima santa che ho scoperto perché, quando avevo solo quattro anni, mia mamma mi lesse e mi fece vedere un album illustrato che raccontava la sua storia. Ero piccolissimo e la mia mamma era solita mettermi una sua immaginetta sotto il cuscino nella culla. Ce l'ho ancora questa immaginetta e non dico ciò che ho provato quando, molto tempo dopo, leggendo gli scritti di Santa Teresa, seppi che un giorno ella, ormai in fin di vita, disse a madre Agnese, la sorella di Paolina. Più tardi, dopo la mia morte, andrò così intorno ai bambinelli battezzati. Lessi la prima volta la sua autobiografia, Storia di un'anima, quando avevo 24 anni e lo trovai un libro unico al mondo, infinitamente più grande di tutti i classici greci, latini, italiani o francesi e altri ancora messi insieme. Provare a sunteggiare questo libro, a commentarlo? No, non lo farei mai perché, secondo me, l'unica cosa che si può fare dopo averlo letto è riprendere a leggerlo. Resta lo stupore e l'incanto come fosse la prima volta. Da nessuno sguardo, come dal suo, mi sono mai sentito scrutato nell'intimo. Nessun sorriso ha potuto ammaliarmi quanto il suo. Non ho letto mai una sola riga dei suoi scritti, senza sentirmi illuminato, rinvigorito, riaperto alla speranza, tornato capace di vivere, di gioire e di lottare. Nel 1996, non so spiegarmi perché, un esemplare dei suoi manoscritti autobiografici, pubblicati nel 1956 in coppia fotostatica, regalato dalla sorella Suor Celina al teologo passionista padre Enrico Zoffoli, nel 1558, è finito nelle mie mani. Da allora, nelle ore grigie, quasi senza accorgermene, mi sorprendo a sfogliare quei quaderni vergati con la sua grafia, colma di verità e di amore, e a stringermi al cuore, come se abbracciassi lei stessa in persona, sentendomi riscaldato nell'anima, come se le mani di Gesù mi accarezzassero. Sono nato nel cinquantesimo della morte di Santa Teresa di Gesù Bambino, nel 1947, e sono cresciuto con la sua immagine sotto il cuscino. È stata lei il primo modello di santità che ho conosciuto. Oggi continuo a leggere Santa Teresa come fosse la prima volta. Oltre a storia di un'anima, ultimamente sono state le lettere agli intimi che mi hanno affascinato. Quelle scritte a Celina raggiungono vertici ineguagliabili per penetrazione psicologica, tenerezza sopranaturale, sapienza sovrumana. Ho ancora tentato qualche volta di scriverne. Impossibile. Non avrei mai potuto esprimere quel che io sentivo in seno. È la stessa cosa che mi capita solo a leggere il Vangelo di Giovanni o il Paradiso di Dante Alighieri. Si fa l'esperienza di Dio. Luce, amore, vita, gioia. Il tremendum e il fascinans insieme dal quale si può solo essere assorbiti in un vortice verso l'alto. L'ineffabile. L'eroismo assoluto. Una gioia immensa ho provato quando, il 19 ottobre 1997, Papa Giovanni Paolo II l'ha proclamata dottore della Chiesa, alla pari con Sant'Agostino, Sant'Omaso d'Aquino, San Francesco di Sales, con i suoi maestri di San Giovanni della Croce e Santa Teresa Davila. Mi fa impazzire quando leggo questo titolo di laurea e docenza sotto l'immagine che la ritrae a otto anni con i riccioli d'oro e lo sguardo dolce sbarazzino e penso questa bambina in mezzo agli spiriti magni del cattolicesimo, i grandi dottori, ora citati, che ci fa questa con quelli. Ciò non solo le è stato donato, ma ella l'ha voluto quando impegnandosi a essere l'amore del cuore della Chiesa era sicura di vivere tutte le vocazioni. La sua piccola vita non è affatto piccola, tanto meno accomodante. Ella non è la santa delle piccole cose, la santa senza alcuna opera, solo perdono di Dio, come se fosse possibile farsi santi, senza una lotta continua per vincere il peccato, le tentazioni e le follie della carne e dello spirito, il mondo intero, come se Dio facesse tutto lui, anche quando noi ce ne infischiamo della sua legge. Teresa, pur sapendo che Gesù, a portarla con le sue braccia fino alla sua vetta e fidandosi di lui, non è quietista e mai dice, come spesso si suol dire oggi con facilità, che Dio guarda il cuore, chiudendo gli occhi come un imbelle davanti al peccato e persino ai vizi dell'uomo. Teresa non ha mai detto queste cose. Proprio per lasciarsi portare di Gesù, ella gli offre una fedeltà assoluta, la sua purezza più limpida, il sacrificio di sé, l'amore ai fratelli per suo amore, dimenticando se stessa. Per far sorridere Gesù, non tollera che neppure la polvere più minuta dell'imperfezione offuschi il cielo della sua anima, anche quando passa nel tunnel della notte oscura. Teresa osserva i comandamenti di Dio e vive il Vangelo fino all'eroismo assoluto, davvero tutta di Gesù bambino e del volto santo. Consume i suoi 24 anni ardenti nell'annientamento come Gesù a Betlemme, a Nazareth e sulla croce, là dove Dio stesso ha dato tutto e non poteva dare di più. È dono di grazia, certamente, ma in Teresa vi è la corrispondenza totale alla grazia. sempre e ogni giorno di più ha voluto essere perdutamente di Gesù, la follia della croce, vissuta nella piccola via dell'infanzia spirituale, nella passione per la Chiesa e per tutte le anime da salvare e condurre in Paradiso, con il cuore di fanciulla reso grande alle dimensioni del cuore di Gesù. Stando con lei, un bambino capisce e il mistico si esaurisce. La vita per Gesù solo Teresa Martin, questo il suo nome al secolo, era nata ad Alençon il 3 gennaio 1873. Ultima di numerose sorelle da genitori Luigi e Zeglia Martin, di fede intensissima. Piccolissima bambina manifestò le sue qualità precoci in modo sorprendente. Sin da allora pregava con una dottrina e con espressioni che stupivano tutti. Nella sua bella famiglia diventò la regina legata a mamma Zeglia e a papà Luigi con un affetto straordinario. Orfana di mamma, 4 anni, concentrò sul papà e il suo affetto dimostrandosi sempre più sensibile verso gli infelici, soprattutto verso coloro che vivono lontano da Dio, ciò che è l'infelicità somma. Inclinata ad amare e ad essere amata, sperimentava in modo singolare la paternità di Dio, l'intimità con Gesù, considerato come l'unico amico. Viveva la carità verso tutti come fratelli da condurre a Lui con la forza della preghiera e del sacrificio. Una particolare devozione alla Madonna sentita come madre in tutto il senso della parola, l'amore all'Eucaristia come il suo cielo sulla terra. Li diedero attorno ai dodici anni una sicurezza nuova, la capacità di affrontare tutte le sofferenze e le lotte con coraggio e con fiducia. Sulle orme delle sorelle maggiori che una per una entrarono al Carmelo di Lisieux, anche Teresa, chiamata da Dio, maturò la sua vocazione di carmelitana. A quindici anni, dopo aver chiesto di persona il permesso al Papa Leone XIII durante il suo viaggio a Roma, poteva entrare in monastero e intraprendere, illuminata da Gesù, come unica guida della sua vita, Dominus Solus Dux Eius Fui, la sua piccola via di santificazione intessuta di fedeltà estremo al Vangelo nelle più minuscole cose in un clima di fiducia, amore e abbandono, di dedizione assoluta a Dio e alla Chiesa, alla salvezza delle anime, unita in tutto a Gesù crocifisso. Offerta la sua vita a Dio come vittima di espiazione e di amore, Teresa, a 22 anni, si trovò ammalato ubercolosi e a percorre un'aspra salita che fece risplendere la sua santità umile e altissima. Per obbedienza alle sue superiore, scrisse la sua autobiografia, testimonianza sublime, di quanto Dio ha operato in lei e di quale amore lo ha contraccambiato. Il 30 settembre 1897 contemplava Dio. Subito, grazie alla sua autobiografia pubblicata con il titolo Storia di un'anima, cominciava a essere conosciuta nel mondo intero e a compiere dovunque le meraviglie del Signore. Null'altro saprei dire di lei. Soltanto, ripeto, leggi e rileggi ancora Teresa e come lei vivì per Gesù e di Gesù, l'uno, l'unico sulla terra e nell'eternità. Soltanto, ripeto, Grazie a tutti